Salve a tutti! In questo video vorrei portarvi delle curiosità storiche e culturali che potreste non sapere su Taranto. 1. In greco il nome di Taranto è Taras, non TAPAI, come molti pensano. Questo errore deriva dal fatto che alcune lettere maiuscole dell'alfabeto greco sono identiche a quello latino, ma la pronuncia può essere diversa. La lettera greca RO corrisponde alla nostra R, ma la RO maiuscola si scrive come una P, però si pronuncia R. Inoltre moltissime persone confondono la lettera greca SIGMA maiuscola con una I, per questo molti credono che Taras si pronunci TAPAI. 2. A proposito del nome di Taranto, in dialetto tarantino si dice TARDE, ma moltissimi tarantini sono convinti che si pronunci TARNDO TARNT. 3. Il nome ha origine dal fiume Taras, che tuttora esiste, ma anche dalla figura mitologica di Taras, figlio di Posidone, che 2000 anni prima di Cristo, avrebbe fondato la città. Curioso il fatto che in sanscrito TARANTA significhi mare. 4. Sappiamo tutti che Taranto fu fondata dai greci, ma ci sono ritrovamenti archeologici che risalgono all'epoca micenea, precisamente sullo scoglio del tonno, nel rione Tamburi, risalente al secondo millennio avanti Cristo, mentre gli spartani, secondo Eusebio di Cesarea arrivarono nel 706 avanti Cristo, circa mille anni dopo. 5. Sparta sorgeva a fianco a un fiume, l'Eurota, e così quando gli spartani arrivarono in Puglia scelsero un territorio che somigliasse il più possibile alla madre patria, come facevano in generale i coloni greci. Così fondarono Taranto nei pressi dei fiumi Taras e Galeso. Galeso è un nome pre-greco, ma secondo Polibio, la maggior parte dei tarantini lo chiamava Eurota. 6. Il Galeso è un fiume molto piccolo, lungo a malapena 900 metri, mentre anticamente era lodato da molti poeti come Virgilio e Orazio, oggi è in stato di abbandono, l'acqua è paludosa ed è quasi nera. 7. Il simbolo di Taranto più usato è quello che rappresenta Taras, figlio di Posidone, mitico fondatore della città, a cavallo di un delfino, ma lo stemma eraldico ufficiale è sempre stato lo scorpione, che tuttora simboleggia la provincia. 8. Prima che Taranto fosse inquinata era più facile vedere i delfini nel mare della città, nella zona delle isole Cheradi, cioè l'isola di San Pietro e San Paolo. Per questo era anche nota come la città dei delfini, che si sono insediati circa 4.000 anni fa. 9. Taranto ha una superficie di quasi 250 km quadrati, mentre Milano ne ha 180, circa, quindi Taranto è più grande di Milano. 10. Ovviamente Taranto, ha un milione di abitanti in meno rispetto a Milano, cioè Taranto ha meno di 200.000 abitanti, mentre Milano ne ha 1.357.000, circa. 11. Taranto ha un dialetto che si parla solo nella città, non è un dialetto parlato anche nella provincia, magari con delle differenze, è uno dei pochi casi in cui un determinato dialetto è parlato solo in città. Nei paesi della provincia si parla un dialetto completamente diverso. 12. Il dialetto di Taranto e alcune dialette della provincia deriva in parte dal latino ma soprattutto dal greco. Quest'argomento merita un capitolo a parte. 13. Nel folklore di Taranto e provincia sono rimaste delle caratteristiche greche e romane, ad esempio il lauro di cui ho parlato in altri video deriva in parte dall'incubus e in parte dai lari della mitologia romana, invece l'un fascino deriva dal fascinum latino, cioè il malocchio. Non solo, sembrerebbe che il culto di Demetra e Persephone avesse lasciato delle tracce nella zona di Taranto tanto che in provincia il nome core, che in greco significa ragazza, che era il soprannome dato da Demetra alla figlia Persephone, era presente fino al diciottesimo secolo. Non solo, ci sono anche stati dei ritrovamenti relativi al culto di Persephone a Taranto e in generale in Puglia. 14. A Taranto sono nati alcuni personaggi storici importanti, tra cui Livio Andronico, il padre della letteratura latina, senza il quale non sarebbe esistita quella italiana, archita, filosofo, matematico e politico, che portò Taranto al massimo dello splendore, tanto da ricevere le lodi da Platone in persona. Infatti Platone archita divennero amici. Non si sa se rentone, drammaturgo, anticipatore della commedia, fosse nato a Taranto a Siracusa. Oppure fino a poco fa era in dubbio se il musicista Giovanni Paesiello fosse nato a Roccaforzata o a Taranto, ma la maggior parte protende per la seconda ipotesi. 15. Pochi sanno che esiste una controversia storica sul luogo di nascita del poeta Quinto Ennio. Sappiamo che nacque in un posto chiamato Rodiae, una città messapica di influenza tarantina, e che un posto con tale nome esisteva vicino Lecce. Gli è attribuita una frase dove dichiara di avere tre cuori, uno greco, uno latino e uno osco, non menziona la lingua e la cultura messapica. Inoltre Ennio si vantava di discendere dal re messapo, che avrebbe dato il nome ai messapi, però da quello che ne sappiamo non parlava messapico. Infatti alcuni mettono in dubbio il fatto che la Rodiae, in cui fosse nato Ennio, si trovasse vicino Lecce, alcuni ritengono infatti che si trovasse tra Brindisi e Taranto, oppure tra Brindisi e Bari. Questi dubbi derivano sia dal fatto che da quello che sappiamo Ennio nella pratica non fosse messapico, ma anche perché non si capisce quali fossero i Monti Calabre di cui parlasse Ennio, e perché presume che o fosse di Taranto o della zona di Taranto. Tutto questo ve lo dico perché sia i tarantini che i leccesi si vantano di avere dato il Natale a quinto Ennio, sia a Taranto che a Lecce ci sono scuole intitolate Ennio, monumenti, parche, eccetera. Mi sono anche dilungato troppo, ci sono scuole.